Ciao amici, come procede la quarantena? Allora, eh? Ma io devo dire innanzitutto che riesco, grazie a tutti voi, a tenere l'umore molto alto. Strano, eh? Però, Whatsapp, Facebook, TikTok, Instagram, video, battute, eccezionale, eccezionale, davvero, nonostante tutto, riesco davvero a mantenere alto, alto, alto il morale. Birra italiana, mi mancava un casino. Ah, sì, sì, devo dire, vi faccio davvero tanti complimenti, davvero continuiamo così, perché Verduno per la verga, buonissimo, uno dei miei preferiti. Devo dire che così andiamo benissimo. Veramente, andiamo veramente, veramente molto bene e devo dire, sì, beh, insomma, ci sono dei momenti di sconforto, però, insomma, uno se li fa passare, uno se li fa passare, voglio dire, uno deve, deve comunque sia, eh, far fronte a queste cose, un attimo, eh? Ecco, dunque, continuando così, ma un po' di, un po' di, un po' di Sambu, un po' di Sambuca perché ci vuole. Ce la faremo, vai ragazzi, vai, vai, tenevo duro!